Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. La Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Ministro dell'Economia Daniele Franco oggi hanno visitato Pescara. Prima di recarsi al centro vaccinale del capoluogo Adriatico i due sono stati ospiti del convegno Quale Città, organizzato dal senatore D'Alfonso in cui si è parlato della trasformazione dei centri urbani nella fase della ripartenza. Il servizio di Giuseppe Dintino. Stiamo finalmente tornando alla normalità, lo ha detto la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati in visita oggi all'Exaurum a Pescara, ospite di Quale Città, il convegno organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso. Con la ripartenza nelle città torna a fluire la vita, ha detto dal palco la seconda carica dello Stato. Ma attenzione agli effetti a medio e lungo termine. I cambiamenti sociali dovuti alla pandemia, quale ad esempio lo smart working, avverte la Casellati, non devono diventare la normalità una volta sconfitto il Covid. Le città ormai sembravano quasi affari spenti. Questo convegno è il segnale della ripartenza. Le città si ripopolano, le città sono il luogo dell'aggregazione, del confronto, della gente che si riunisce nuovamente. Le città che erano andate con il Covid in una sorta di cortocircuito oggi rivivono. La Presidente del Senato ha poi lodato Pescara per i progetti approvati durante la pandemia, volti alla sostenibilità ambientale. Comincio da qui, che è una città che ho visto ha già 11 progetti e li ha approvati appena adesso, di sostenibilità economica. Quindi accettato questa grande sfida anche dell'economia sostenibile, è una città che ha dei percorsi ciclabili interessanti, forse uno dei più importanti. Una città aperta. Presente anche il Ministro dell'Economia, Daniele Franco. Le città saranno fondamentali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e diventeranno più digitali e sostenibili, ha detto il Ministro. Le autorità hanno poi visitato il centro vaccinale di Via Tirino, che sta per raggiungere il traguardo di 200.000 dosi inoculate. E come si diceva nel servizio, subito dopo il convegno quale città, la Presidente Casellati ha visitato il centro vaccinale di Pescara. Il nostro Giuseppe Dintino, che ha confezionato il servizio, ha seguito proprio la giornata della Presidente Casellati. Andiamo proprio da lui, in collegamento diretto proprio dal centro vaccinale. Buon pomeriggio, Giuseppe. Buon pomeriggio, Andrea. Buon pomeriggio ai telespettatori. Alle mie spalle il centro vaccinale di Via Tirino, a Pescara. Poco fa la visita della Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che è rimasta impressionata da questo centro, che, dosi permettendo, sarebbe in grado di inoculare anche oltre 2.000 vaccini tutti i giorni. Ieri intanto il Governo ha approvato il decreto, secondo cui cambiano i parametri per ricolorare le zone in base alle restrizioni Covid. Il Ministro della Salute e Speranza ha colto la richiesta dei governatori di far pesare maggiormente il tasso di occupazione negli ospedali, piuttosto che l'incidenza nel virus e il numero dei contagi. In Abruzzo, per esempio, a causa della variante Delta, i contagi sono in progressivo aumento, specialmente nella provincia di Pescara, però non sta risalendo il numero degli ospedalizzati, come si temeva in un primo momento. Su questo noi abbiamo ascoltato il Governatore della Regione, Marco Marsiglio, che era qui ovviamente alla preside, alla visita dello Stato, e si è detto soddisfatto di questa scelta. Ascoltiamolo. Io da molti mesi, conoscete la mia posizione, avevo già sollevato da molto tempo il fatto che alcuni parametri come l'R con T e a seguire quello dell'incidenza fossero dei parametri troppo astratti e che spesso non rappresentavano, non fotografavano la reale condizione di emergenza o di pericolo che poi possono giustificare restrizioni. Finalmente, l'ultimo giorno utile, il Governo ha adottato questo decreto legge che supera l'R con T definitivamente, integra il parametro dell'incidenza con quello della pressione ospedaliera, che è il vero problema. Il problema del Covid è che, a differenza di altre comuni malattie, porta all'ospedalizzazione, si aggrava le condizioni cliniche e porta anche alla letalità dei soggetti più fragili. Ora, a noi interessa poco sapere se il numero dei positivi aumenta, se nel frattempo diminuiscono le occupazioni dei posti letto in ospedale. Quindi saremo e continuiamo ad essere vigili e attenti e non perdo occasione di sollecitare tutte le autorità sanitarie competenti. Un ultimo ciamponi oggi qui a Pescara perché continuino a rafforzare e lo stiamo facendo. Mi ha appena comunicato di aver assunto altre sette persone per fare il tracciamento e evitare che questi focolai, questa ripartenza dei contagi possa dilagare e diventare un numero molto più esteso. Però va sempre detto che ad oggi la presenza in ospedale negli ultimi giorni è addirittura diminuita, quindi non c'è motivo di creare allarmismi, giusto tenere alta la guardia ma non creare panico, non creare ingiustificato allarme che non può che peggiorare la condizione. In base al decreto sottoscritto ieri, l'Abruzzo per tornare in zona gialla dovrebbe avere un'incidenza del virus di oltre 50 casi ogni 100.000 abitanti, ma anche un tasso d'occupazione oltre il 15% in area medica e oltre il 10% in terapia intensiva. Altra novità del decreto è il Green Pass, la certificazione di compiuta vaccinazione, senza la quale a partire dal 6 agosto, gli over 12, coloro che hanno più di 12 anni d'età, non potranno entrare più nelle attività al chiuso e occorrerà per avere il Green Pass, basterà anche solo la prima dose di vaccino. Molte le perplessità invece su questo secondo tema, quello del Green Pass, ci sono dubbi su quanto concerne soprattutto chi dovrà controllare questi Green Pass, chi dovrà poi emettere delle sanzioni qualora non si rispetti il decreto. Infatti su questo lo stesso governatore Marsiglio non è pienamente soddisfatto. Ascoltiamolo. Il Green Pass era stato introdotto come strumento per riaprire e autorizzare alcune attività altrimenti difficili da gestire, consentendo in particolare alle persone che nel frattempo si erano già vaccinate di poter essere liberati da alcune restrizioni che non avevano più giustificazione. Adesso io temo che stia mutando segno, cioè da strumento di apertura e di liberazione, sta cominciando ad essere uno strumento di costrizione e di limitazione. Peraltro dubito che nei ristoranti, nelle palestre, nelle piscine, i gestori siano attrezzati per poter distinguere da uno schermo di un telefonino un QR code del Green Pass autentico piuttosto che il contrario. Diventano poi degli oneri organizzativi, gestionali, di responsabilità anche nella sanzione. Chi lo fa? Chi è che si mette a sanzionare? È un modo un po' così propagandistico di affrontare le questioni dando su questo segnale di falsa sicurezza e poi invece la gestione concreta, pratica di queste decisioni ricasca sulle spalle degli ultimi. Le regioni lo hanno provato a spiegare al governo, chiedendo al governo semmai di utilizzare il Green Pass per riaprire le discoteche che sono chiuse, per andare allo stadio, nei concerti, nelle aree, nei luoghi di grande assembramento cercando di garantire un po' più di sicurezza e si è scelta invece una strada diversa. Io non credo che sia la strada corretta. Il Green Pass così organizzato è solo propaganda, netto il giudizio del Presidente Marsilio, lo abbiamo appena ascoltato. Io ringrazio Roberto Pulimanti e Loris Bennato per l'assistenza tecnica al momento dal centro vaccinale di Via Tirino a Pescara è tutto, linea allo studio. Grazie, grazie a Giuseppe Dintino. Possiamo proseguire con il nostro Tg e parliamo ora dell'inchiesta Rigopiano. Oggi c'era in programma una udienza e per permettere di acquisire tutte le nuove produzioni presentate sia dall'accusa che dalla difesa il processo Rigopiano, ancora nelle fasi preliminari, tornerà in aula venerdì 30 luglio. Un pizzico di soddisfazione per i familiari che ottengono una calendarizzazione più snella. Stefano Recanati. Ancora un rinvio per l'udienza preliminare del processo Rigopiano dopo quello dello scorso 25 giugno quando ci fu l'alta adessione degli avvocati allo sciopero nazionale. Il gruppo Sarandrea, dopo aver accolto nuove produzioni da parte della difesa e dell'accusa, ha optato per una calendarizzazione più breve. Si tornerà in aula venerdì 30 luglio alle ore 9.30. No, sicuramente oggi torniamo a casa un pochino più tranquilli e più soddisfatti perché rinviare di una settimana è umanamente sopportabile, rinviare di un mese, di un mese e mezzo per noi è uno stilicidio. Intanto gli avvocati del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, hanno chiesto la possibilità che il giudice nomini un perito per dare il via al processo, vero e proprio. Sì, esattamente. La parola d'ordine è è ora che il processo di Rigopiano cominci e non può che cominciare dal tema più importante, la prova principe, una perizia di carattere scientifico che, siccome oggi abbiamo visto, no, che c'è stato deposito di supplementi di consulenza, tutta una serie di prove scientifiche che hanno instaurato una sorta di guerra tra consulenze, questa guerra si dovrà, prima o poi, decidere in qualche maniera con cosa, con un esperto nominato dal giudice che è il perito. Quindi noi abbiamo chiesto oggi di fare un incidente probatorio così da acquisire subito una perizia che avrà valore in abbreviato, in dibattimento e a cui potranno partecipare pubblicamente tutti, tutte le parti del processo. Sì, da come insomma si è svolta oggi l'udienza sembrerebbe che stiamo prendendo la strada per avviarci alla conclusione, quindi con i riti abbreviati e quant'altro, però ecco, l'importante è che le rienze vengano celebrate in modo ravvicinato. Prima del rinvio sempre il gruppo Gianluca Sarandrea ha dato l'ok per il sequestro preventivo dello stipendio dell'ex funzionario della provincia di Incecco. Sì, abbiamo ottenuto finalmente la pronuncia sulla richiesta di sequestro dello stipendio di Incecco e quindi un passaggio avanti, poi devo andare a dire che anche questo rinvio breve è stato finalmente un'adesione a quella che era stata la mia stanza espressa. Adesso che cosa vi aspettate già da venerdì? Il capo di venerdì sostanzialmente succederà molto poco, sarà un'udienza di smistamento tantomeno è stato un segnale di buona volontà da parte del magistrato. E San Stefar ad aggiudicarsi l'acquisizione del 90% delle quote di Gemelli Molise per l'importo di 33 milioni di euro il 10 resta in capo al Gemelli S.p.a. di Roma il servizio dei colleghi di Tele Molise. Alla fine la piccola San Stefar una società abruzzese di servizi sociosanitari con sede anche a Termoli la spunta sui giganti della sanità e della ricerca scientifica Humanitas e Neuromed e si aggiudica il 90% delle quote societarie del Gemelli Molise per 33 milioni il 10% rimane in capo al Gemelli S.p.a. di Roma che quindi continua ad essere presente come sanità controllata dal Vaticano nel capitale della nuova società che nasce dall'ex cattolica Molise una soluzione auspicata anche dall'arcivescovo Bregantini che aveva lanciato un accorato appello affinché la Chiesa cattolica non abbandonasse il suo ruolo nella sanità molisana un risultato che ha ribaltato ogni pronostico infatti i due favoriti per l'acquisto del Gemelli Molise erano senza dubbio i colossi Humanitas della famiglia Rocca e Neuromed del gruppo Patriciello tutte le offerte si aggiravano intorno ai 30 milioni ma alla fine ha avuto la meglio la San Stefar di Ercole Core ora dopo l'annuncio della scelta della San Stefar da parte del Gemelli parte la complessa trattativa sui tavoli dei legali che rappresentano venditore ed acquirente per tracciare un percorso e condividere il piano industriale il titolare della San Stefar Ercole Core è un medico abruzzese ed è stato per circa 20 anni segretario della Federazione Medicina Generale di Teramo da 8 anni è l'amministratore del gruppo San Stefar Molise ed è affiancato dal partner Stefano Petracca originario di Santa Maria di Leuca da oltre 20 anni impegnato nel campo dell'alta finanza in Svizzera con un fondo che raccoglie molti operatori finanziari di livello internazionale ed è finalizzato lo sviluppo di nuovi modelli operativi nell'ambito della sanità territoriale ospedaliera ho accolto la notizia con soddisfazione entusiasmo ed emozione ho onorato di partecipare a un progetto di così grande rilevanza a livello nazionale ha detto Ercole Core siamo riusciti a portare l'attenzione sul Molise da parte di autorevoli investitori i nostri partner che hanno creduto in un piano di sviluppo della sanità molisana sia attraverso il potenziamento della sanità territoriale con San Stefar sia attraverso il sostegno al settore ospedaliero collaborando con il Gemelli S.P.A. e con la fondazione Gemelli spero ci saranno sviluppi positivi per i servizi sanitari di altissima qualità sia nel campo scientifico che della ricerca dal canto suo il partner Stefano Petracca ha già dichiarato che l'attuale management e il consiglio di amministrazione resteranno invariati formare operatori economici in vista della transizione digitale questo lo scopo del bando da un milione e mezzo di euro illustrato stamani dall'assessore regionale al lavoro Pietro Quaresimale abbiamo riscontrato questa esigenza seguito appunto di questa pandemia ma anche in base alle richieste delle parti sociali nel corso degli incontri in questa transizione verso il digitale ci vogliamo preparare quindi preparare gli operatori economici abruzzesi anche in materia di turismo affinché siano pronti a livello di digitalizzazione per poter operare quindi sicuramente una misura importante pare a un milione e mezzo di euro che sarà sicuramente rimodulato se ci sono esigenze diverse ma l'obiettivo è quello appunto di avere operatori del settore preparati digitalmente per poter competere con le altre realtà un particolare riguardo lo diamo agli operatori turistici perché anche da questo punto di vista dobbiamo veicolare sulla rete la nostra bellissima regione quindi ci vogliono esperti di marketing digitali che possono prevedere dei pacchetti ma anche poter ricevere e saper veicolare tutti i flussi turistici che vengono in Abruzzo abbiamo fatto degli incontri ma ho anche girato il territorio e ho riscontrato appunto come dicevo queste esigenze perché ormai c'è sempre più l'esigenza di stare su internet sui social e quindi molti lavoratori non hanno questa esperienza e vogliamo formarli questo in un discorso più ampio in cui vogliamo puntare sulla formazione anche con la nuova programmazione FSE per incrociare dove vanno offerte del lavoro cioè spesso ci sono delle richieste lavorativi che però non possono essere soddisfatti perché mancano i profili noi invece con la formazione vogliamo qualificarli e permettere a queste persone di entrare nel mondo del lavoro ma la formazione è di fondamentale importanza quindi noi dobbiamo dare questa possibilità a giovani donna disoccupati quindi cercare di come dicevo qualificare i profili per poter accedere al mondo del lavoro quindi un incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro e questo lo faremo logicamente con i centri per l'impiego che sarà oggetto di una ristrutturazione di cui parleremo nel prosieguo perché spiegheranno tutti i dettagli a Pereto un piccolo comune di 700 abitanti in provincia dell'Aquila si è sviluppato un focolaio covid comunque è rimasto sotto controllo in questi giorni sono previsti screening di massa già fatti a inizio emergenza predisposti anche dei vaccine day con alta adesione anche dei più giovani vediamo già dall'inizio siamo stati molto attenti a fare una prevenzione già prima che si attivasse addirittura la regione abbiamo iniziato a fare degli screening proprio a livello comunale a spese nostre e con partecipazione con i cittadini per dire questo che magari c'è sempre molta attenzione ultimamente ancora di più perché visto che 15 giorni fa c'è stato questo focolaio 6 persone non avevamo mai tenute diciamo 6 persone positive perché fortunatamente siamo sempre stati quasi sempre free il comune di Pereto borgo ricco di storia e beltà nel mezzo della piana del cavaliere come un diamante di nemmeno 700 abitanti è stato quasi sempre covid free anche nei mesi più ripidi e in salita di questa terribile emergenza sanitaria tuttora in atto non ha mai registrato focolai sensibili almeno fino a questo momento due screening di massa a distanza di nemmeno due settimane allestiti e organizzati dall'amministrazione comunale con il supporto di ASL e Regione Abruzzo al primo screening hanno partecipato circa 100 abitanti fra cui molti giovani tutti risultati negativi sabato 24 luglio si terrà il secondo testing di massa anti covid sempre a scopo precauzionale poi invece oggi in particolare come vedete c'è la seconda turnazione dei vaccinati questo grazie all'esercito che so che su tanti comuni piccoli comuni sta facendo questo servizio e oggi noi ripetiamo il secondo e speriamo con questo secondo perché anche come si vede tanti giovani lo stanno facendo questo vi fa normalmente piacere perché oggi sappiamo che sono più ragazzi quelli che sono più a rischio e per Edo con questa seconda vaccinazione diciamo se non siamo al 100% ma quasi vicini siamo alla totalità della copertura che quasi tutti sono vaccinati per cui questo mi fa enormemente piacere Nuovi servizi sono disponibili nella spiaggia senza barriere presente nel comune di Montesilvano nel tratto antistante il parco Levele fattori che pongono il comune triatico all'avanguardia in Italia per l'accessibilità al mare per persone affette da disabilità vediamo Assessore Santa Venere il comune di Montesilvano fa scuola perché la spiaggia accessibile a tutti diventa anche una bella spiaggia piena di servizi Esatto sì è una spiaggia viva come abbiamo voluto con orgoglio appunto dire dall'inizio è una spiaggia aperta senza barriere ma deve essere una spiaggia anche vissuta dove i ragazzi insomma tutti coloro che ne feriranno potranno vivere dei momenti come quello di questa mattina appunto sentirsi davvero cioè interagire anche con appunto questi cani che faranno questa dimostrazione e loro faranno il bagno avranno possibilità insomma di utilizzare questo bello spazio attrezzato davvero per vivere come tutti gli altri sono tantissimi anni che noi abbiamo le spiagge quest'anno però anche per il covid abbiamo organizzato delle spiagge straordinarie meravigliose uniche in Italia mi permetto di dire dobbiamo essere orgogliosi e lo dobbiamo dire a gran voce dobbiamo essere io sono emozionato ed orgoglioso qui praticamente abbiamo eliminato completamente la disabilità tutte le persone con disabilità possono fare tutto possono godere della spiaggia possono godere del mare abbiamo dei gazebi per le ombre abbiamo dei bagni di lusso abbiamo le passerelle abbiamo le docce abbiamo le sedioline speciali abbiamo gli assistenti abbiamo addirittura le sedioline per gli accompagnatori devo dire che abbiamo superato addirittura quello che la legge consiglia per le spiagge accessibili ecco perché lo dico con grande orgoglio quindi dobbiamo lavorare sull'ambiente per eliminare tutti quegli ostacoli quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo combattuto il pregiudizio e abbiamo garantito le pari opportunità poi oggi c'è questa a suggellare questa spiaggia meravigliosa abbiamo la Cappellina di Porto gli angeli del mare abbiamo un sacco di associazioni che appartengono alla Federazione Italiana Superamento Acquatico con i cani Labrador che faranno il bagno insieme ai ragazzi disabili con il motoscooter che è un'ambulanza acquatica quindi davvero dico con emozione e anche con grande soddisfazione che oggi abbiamo fatto scuola in Italia un calendario estivo ricco quello di Arsita comune della Valfino stamani in provincia di Teramo l'illustrazione degli eventi accompagnati dall'hashtag laica bacucchese derivato da Bacucco antico nome di Arsita vediamo si tratta di un calendario che le associazioni presenti sul territorio hanno promosso in collaborazione con l'amministrazione comunale per riproporre eventi che hanno una consuetudine sul nostro territorio che quindi hanno anche una storia e un'importanza e anche attività nuove che le associazioni stanno cercando di portare avanti anche dopo quella che è stata l'esperienza della pandemia che ha un po' stravolto le modalità di realizzazione degli eventi questo calendario fa quello promuove il nostro territorio cominciamo con domenica dove abbiamo un evento molto bello che si chiama musica nel cuore del parco ci sarà la possibilità di ascoltare musica classica proprio in vetta e questo è appunto uno degli appuntamenti più importanti e anche quello a cui io personalmente tengo molto perché c'è la camminata in montagna quindi la possibilità di arrivare ad altavetta ad ascoltare la musica classica ma dopo aver ammirato il nostro paesaggio quindi musica per le orecchie ma musica anche per gli occhi poi abbiamo un altro grande appuntamento che è una valle che legge che prevede una serie di appuntamenti sul territorio con scrittori importanti a cominciare da Fran Carminio a Donatella di Pietrantonio quindi personalità del mondo della letteratura importanti c'è il Dlandland Festival e poi c'è diciamo una versione rivisitata di quella che è Valfina al Canto che è una delle manifestazioni più importanti riguarda la musica tradizionale popolare che però viene chiamata Valfina Off perché dall'anno scorso il virus la pandemia non permette la realizzazione di questa manifestazione per quella che è la sua peculiarità però vogliamo mantenere un faro acceso e quindi cercare di realizzarlo nel rispetto dei DPCM anche nell'ultimo che è proprio uscito ieri Ed ora lo sport Matteo Brunori declina l'offerta del Pescara sfuma dunque il ritorno in riva l'Adriatico per l'attaccante nato in Brasile ma italiano che era stato a Pescara già nella prima parte della stagione 2019-2020 il club biancazzurro aveva trovato l'intesa con la Juventus proprietaria del cartellino ma dopo alcuni giorni di riflessione il giocatore ha detto no nel gennaio 2020 il giocatore era stato acquistato dal Pescara era di proprietà del Parma e poi il Pescara a sua volta lo aveva ceduto alla Juventus in cambio del cartellino di Masciangelo ora il presidente Sebastiani e il DS Matteassi dovranno individuare un nuovo profilo per implementare il settore offensivo dopo gli innesti di Ferrari e Dursi si avvicina il giorno del raduno del Teramo di lunedì prossimo in attesa che Federico Guidi possa liberarsi e firmare il contratto come nuovo allenatore in casa Biancorossa tengono banco le cessioni si avvicinano quelle dell'attaccante Pietro Cianci al Palermo e Simone Santoro al Brescia vediamo lunedì si svolgerà l'udienza nel collegio di garanzia del Coni che esaminerà i ricorsi delle squadre non ammesse ai campionati professionistici tra queste la Casertana che ha speranze ridotte al Lumicino di poter partecipare alla Serie C in caso di rigetto del ricorso Federico Guidi si svincolerà d'ufficio e potrà subito dopo vincolarsi al Teramo e troverà a quel punto una squadra che sarà molto probabilmente orfana di due pezzi importanti Pietro Cianci e Simone Santoro Cianci si sta avvicinando al Palermo la trattativa va avanti ed è arrivata a un buon punto tra i due club da Palermo rimbalza la notizia della forte accelerazione impressa nella giornata di ieri dal direttore sportivo dei Rosa Nero Renzo Castagnini che avrebbe offerto al patron bianco-rosso Franco Iachini circa 400.000 euro per l'acquisizione del cartellino dell'attaccante barese ora il dirigente del Palermo potrà chiudere l'operazione incontrando l'agente di Cianci per trovare l'intesa sull'ingaggio e poi sarà fumata bianca Cianci che a Teramo è arrivato nell'estate 2019 ma che in bianco-rosso ha effettivamente disputato solo la prima parte del campionato 2019-2020 poi una serie di prestiti a Carpi Potenza e Bari ora nel futuro c'è il Palermo in base ad accordi pregressi il Teramo verserà la metà del prezzo incassato per l'accessione nelle casse del Sassuolo più di impatto in bianco-rosso è stato il biegno di Simone Santoro che nella prima stagione è stata una rivelazione e che in quella che si è chiusa due mesi fa si è consacrato come uno dei prospetti di maggiore rilievo della C su di lui gli occhi di vari club di B e uno di questi il Brescia di Massimo Cellino è pronto a chiudere la trattativa nel caso Santoro finirà la sua parentesi Teramana con 60 presenze e 3 reti sul fronte delle entrate il mercato dovrà ancora decollare il neo DS Carlo Musa sta approntando le strategie avendo anche a disposizione gli introiti delle suddette operazioni Federico Guidi ha però già segnalato il giovane regista napoletano Mattia Matese classe 2001 cresciuto nella casertana con cui ha debuttato in prima squadra mettendo insieme 46 presenze in due stagioni anche lui a breve potrebbe svincolarsi d'ufficio e legarsi al Teramo è tutto per questo primo appuntamento con il TG6 a breve troverete tutti i servizi on demand sulla nostra piattaforma Youtube oppure sul sito www.tv6.it prossimi appuntamenti con i nostri TG alle ore 19 e alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TV6 tutti i nostri TG a breve troverete 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 Grazie a tutti